Musica Posso? Si, grazie Grazie il dolce Signora, mi scusi, vuole il caffè? Si, però, per te ci piace Niente di meno Te si immaginate l'impossibile E muovo il caffè con il dolcificante Se vuoi dimagrire, non partire Dalla sostituzione dello zucchero con il dolcificante Piuttosto cerca di controllare Le calorie giornaliere che assumi E di aumentare la tua spesa calorica Attraverso del movimento E soprattutto l'allenamento